Si lavora per la realizzazione del progetto della sede unica comunale, anche se tanto unica non sarà. Entra nel vivo il concorso di progettazione in due gradi del primo lotto, nella zona della stazione in via Rocco Caraba, dove c'è la struttura dell'ex autoparco comunale che sarà ricostruita. L'idea della sede unica per il comune risale alla passata amministrazione, guidata da Massimo Cialente. Ora riprende forma anche se con dei distinguo, perché l'amministrazione guidata da Pierluigi Biondi ha inteso, oltre a Palazzo Margherita e in centro, che è in piena ricostruzione e sede istituzionale, avere più sedi anche nel cuore della città. La struttura dell'autoparco vedrà al suo interno anche la sede della Polizia Municipale e tutte le funzioni di protezione civile comunale. Per il primo lotto ci sono a disposizione 14 milioni di euro sui 40 totali che servono per la sede unica. Come è accaduto per altre situazioni, anche per questa il comune ricorre ad un concorso di progettazione e c'è già la commissione giudicatrice. Nella prima fase vengono valutati i progetti presentati, se ne scelgono 5. Nella seconda tra i 5 viene scelto il vincitore, che ottiene ben 64 mila euro e a cui viene affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, ma anche coordinamento della sicurezza e direzione lavori. È il comune dell'Aquila però a stabilire cosa vuole e sulla piattaforma del concorso ci sono delle indicazioni in base al preliminare dell'ente. Oltre ad inglobare Polizia Municipale e Protezione Civile, l'autoparco sarà riqualificato con una sistemazione dell'area esterna, parcheggi e miglioramento della viabilità.